Si sono appena spenti i riflettori sul Festival Mare 2017, un gran galà del turismo organizzato dai quotidiani La Stampa e il secolo XIX in collaborazione con il Comune di Sanremo, per premiare i migliori eventi, personaggi e idee della nostra bella Liguria. Tanti premi speciali per ogni provincia, tra cui la festa della Cucina Bianca di Mendatica in Valle Aroscia, manifestazione da noi di Imperia TV sempre valorizzata e sostenuta nel corso degli anni. Molti gli ospiti che hanno impreziosito la serata, tra tutti spicca il nostro inviato Gianni Rossi, premiato per il suo red carpet al Festival di Sanremo, ma soprattutto lei, la meravigliosa Mietta, sempre legata alla Liguria e alla città del Festival. Direzione artistica a cura della Eccoci Eventi, che ha realizzato uno speciale TV dedicato al meglio di Festival Mare su tgevents.it e che vedremo anche in onda prossimamente sulla nostra rete.